e per effetto siamo arrivati vediamo don è passata un'ora in quarto fra un po tornerà normale dai ci andiamo vieni con noi ogni totesità di un ordine venite scusa non sono masciuta una macchina prima torna ma dove siamo è un po sto in montagna qual è il mio secondo obiettivo qual è il mio secondo obiettivo stanno arrivando scurator e francesca l'americana dai andiamo via vieni ok 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 qua sotto perfetto qua non ci dovrebbero vedere sì loro non guardano mai giù silenzio ok finalmente sono uscito dall'aereo di scurator mi ha mandato a lavorare da sola perché ha paura delle mondi dei cervi ma ma non vengono qui che pifone che devo assolutamente cercarlo oscure turmini centiramigliano la scossa e ipnotizzata ho un ordine per te ipnotizzata 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 e dove vai o non lo stanno chiamando ipnotizzata ipnotizzata fermatela devo seguire l'ordine devo seguire l'ordine il tuo ordine di stare qui coricata ok ipnotizzata 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 ecco staccandoli tappandoli le orecchie ci lascerà in pace ipnotizzata ipnotizzata uff non mi sentirà adesso come faccio che vento che c'è ma forse lo spero una traiettora migliore a zaino a razza impizzibile io non li vedo ho sentito un rumore per cui sta atterrando se li vera ci vedrà salite qui sopra almeno lei sarà sotto e non ci vedrà ok ma eppure io qua ho sentito un rumore io non prima la voglio assolutamente il silenzio già te no ci scoprirà non date nessuno a venire a lei se no farà rumore io continuo a sentire un rumore sapevo che il mio dito non poteva fallire scappate ragazze tutti qua dentro noi partiamo siamo un po' strette vabbè è l'unica soluzione dai via aspettate bene l'idea era un po' di vantaggio sentiamo dove erano insieme ad andare ragazze conosco un posto in cui andare dov'è bere se lo vedrete non so dove andranno vabbè boing vabbè a a conchino Mua!